Ancora ben trovati con Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia, vediamo le principali notizie di oggi. Restata la tensione nel carcere di Pavia, intorno alle 13 alcuni detenuti hanno gettato delle bombolette su una colata di catrame fresco in un cortile, scatenando un incendio. Addio e pilomate all'ingresso del ponte della Becca, dopo infiniti guasti e disservizi per fermare i mezzi pesanti, Anas ha deciso di puntare sulle classiche sbarre, partiti i lavori. Senza gas per una notte per un pasticcio burocratico è successo a un panettiere di Vigevano, un errore a causa della mancata comunicazione del pagamento, pur parziale, di una rata. Sono dieci le nuove fototrappole a disposizione della Polizia Locale di Pavia per monitorare parchi e zone considerate a rischio dal punto di vista della sicurezza urbana. E alla fine è arrivato anche Max Pezzali sul set della serie TV che racconta la nascita degli 883, la foto è stata pubblicata sui social dalla moglie Deborah Palamatti. In apertura la cronaca ancora un episodio all'interno del carcere di Pavia dove resta alta la tensione, un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in un cortile interno. Sentiamo. Resta alta la tensione all'interno del carcere di Torre del Gallo a Pavia. Giovedì pomeriggio attorno alle 13 alcuni detenuti dell'ottava sezione hanno gettato delle bombolette su una colata di catrame in uno dei cortili interni scatenando un incendio domato solo grazie all'arrivo dei vigili del fuoco. Una protesta che poteva avere conseguenze molto più gravi. In quella zona infatti passano anche i familiari per accedere all'area colloqui. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma le immagini del fumo che si alzava dal penitenziario sono state notate anche dagli automobilisti che si trovavano sulla tangenziale, come si vede in questa foto pubblicata sul gruppo whatsapp L24. Dopo la protesta organizzata al 9 giugno scorso dai sindacati che da tempo lamentano condizioni di lavoro insostenibili e continue aggressioni, due tra i detenuti più violenti sono stati trasferiti in altre strutture. Il carcere di Torre del Gallo rimane però sovraffollato per le parti sociali. Ci sarebbero almeno 150 detenuti in più rispetto alla capienza massima. Non escluso che la protesta delle scorse ore possa essere un segnale, nemmeno troppo velato, all'indirizzo della direzione del penitenziario. Al ponte della Becca cambiando argomento è finita la stagione dei Pilomat più volte danneggiati, adesso per fermare i mezzi pesanti si punta all'utilizzo delle sbarre, sono iniziati proprio in questione i lavori per installarli da entrambi i lati. Vediamo. Addio ai Pilomat all'ingresso del ponte della Becca dopo infiniti guasti e disservizi, spesso a causa di conducenti distratti o indisciplinati per fermare i mezzi pesanti, ANAS punta sulle classiche sbarre. Attorno alle 12.30 dei giovedì il primo impianto nel territorio di Mezzanino, inoltre Po, era già installato, mentre restava da posizionare quello sulla sponda pavese, territorio di Linarolo. I lavori hanno provocato alcuni disagi al traffico ma anche molta curiosità tra i viaggiatori e sui social non sono mancati commenti che adombrano dubbi sull'efficacia del nuovo sistema di blocco dei mezzi pesanti non autorizzati. Intanto il comitato a Ponte Becca in un recente incontro pubblico è tornato a sensibilizzare sulla necessità di installare dei sensori in grado di predire eventuali rischi di cedimenti, richiesti e promessi a più riprese ma ad oggi non presenti. L'altra rivendicazione riguarda invece i sistemi di rilevazione delle infrazioni. Se infatti è sempre attivo l'autovelox che multa gli automobilisti che superano i 50 chilometri orari sul ponte, le videocamere di sorveglianza che permetterebbero di sanzionare i camionisti indisciplinati sarebbero spesso fuori servizio. I temi economici non arrivano, buone notizie per le famiglie pavesi e non solo perché per i mutui si pagherà il doppio rispetto a due anni fa la stima redatta dalla Federazione Autonoma dei Bancari Italiani. Le famiglie pavesi che stipuleranno un mutuo a tasso fisso da qui a fine anno dovranno rassegnarsi a pagare il doppio rispetto ai costi medi di due anni fa. Sono le stime redatte dalla Fabi, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, in base al nuovo rialzo dei tassi di interesse previsto per luglio, come annunciato dalla direttrice della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Calcolando come base un mutuo da 25 anni, farsi finanziare 200.000 euro comporterà una rata mensile da oltre 1.300 euro. Se la cifra finanziata sarà di 100.000 euro, invece, la rata supererà i 600 euro. Questo perché con il tasso fisso le banche non proporranno prestiti inferiori al 5%. Se i mutui a tasso fisso sono quindi destinati a raddoppiare rispetto a quanto si pagava due anni fa, non saranno immuni dagli aumenti anche quelli a tasso variabile. In questo caso il rincaro sulla rata è stimato dalla Federazione dei Bancari tra il 60 e il 70%. La differenza non da poco però è che gli aumenti non andranno a pesare soltanto sui nuovi mutui, ma anche su tutti i finanziamenti già in essere e che le famiglie pavesi stanno attualmente pagando. E' brutta avventura per un panettiere di Vigevano per aver pagato solo parzialmente la rata del gas. Sentiamo che cosa è successo. Senza gas per una notte per un pasticcio burocratico. È successo ad Aristides Bardellotto, titolare di un noto panificio di Viale dei Mille a Vigevano. Come ogni notte anche in quella tra mercoledì e giovedì, Aristide è andato nel laboratorio che si trova dietro la sua attività per preparare e cuocere tutti i prodotti da proporre l'indomani in negozio. Ma nel momento dell'accensione dei forni si è trovato di fronte a una bruttissima sorpresa. Il gas era staccato. Il motivo? La mancata comunicazione del pagamento, seppur parziale, di una rata. Non so di chi sia la colpa e non voglio puntare il dito contro nessuno. Però certo che ha creato disagio non solo a me, ma ai miei clienti, ai miei fornitori e tutti e anche ai miei collaboratori perché i miei collaboratori sono stati incommiabili in questa occasione qua. Senza togliere nulla anche chi mi ha aiutato, ai miei colleghi di lavoro, ai miei colleghi panettieri che quando ho chiesto loro di darmi una mano, loro sono corsi subito sempre senza chiedere nulla e cogliendomi nel loro panificio a braccio aperto. Noi artigiani riceviamo massimamente la luce e il gas. I costi contenuti sono all'incirca sui 2.000 euro per il consumo che abbiamo. Noi abbiamo un consumo standard tutti i mesi perché il lavoro è quello e non diminuisce. 2.000 euro adesso a fronte del settembre dell'anno scorso, che quei 2.000 euro lì sono diventati 8.000. 8.000 e sono andati avanti per parecchi mesi. Abbiamo avuto delle grandissime difficoltà. Io sono fortunato, ti ho detto c'è tanta gente che mi vuole bene e non so io per esempio il mio padrone dei muri, il mio locatore, gli ho detto che facevo fatica a pagare l'affitto e mi ha detto di non preoccuparmi. Questa situazione è venuta a crearsi dopo un aumento delle materie prime, dopo un blocco di due anni per il lockdown. Cioè sono tutte cose che rendono noi artigiani e alle nostre micro imprese sempre più difficili andare avanti e cercare di portare e dare quel qualcosa in più che non ti dà la grande distribuzione sicuramente. Abbiamo tanto riscontro da parte dei clienti perché loro il riscontro te lo danno, la loro fedeltà, il loro appoggio, il loro appoggio morale. Però ciò non toglie che al di là di questo nessuno ci aiuta. Cambiamo decisamente argomento, torniamo sui temi della peste Suina. T.S. ha incontrato i sindaci, i cacciatori e si va verso l'ipotesi dell'allargamento della zona rossa in Oltrepo. Quattro comuni oggi in zona gialla potrebbero entrare in zona di restrizione 2 o rossa. A breve è quanto emerso dagli incontri svoltisi giovedì a Varti presso la sede della comunità montana incentrati sull'emergenza Peste Suina dove A.T.S. Pavia con la polizia provinciale ha incontrato i sindaci della zona rossa. Si tratta dei comuni più prossimi a Bagnari e Cecima dove sono stati ritrovati i due cinghiali infetti dalla PSA Godiasco, Salice Terme, Rivanazzano Terme, Montesegale e Rocca Susella. Se per i primi due, Godiasco e Rivanazzano, il destino secondo alcuni sarebbe ormai segnato, essendo confinanti con la provincia di Alessandria dove la peste suina è conclamata ormai da tempo, per Montesegale e Rocca Susella il passaggio potrebbe non essere così scontato. Al centro degli incontri, il primo con i sindaci e il secondo con i cacciatori delle locali A.T.C. anche le norme di biosicurezza da tenere durante le attività di monitoraggio e di caccia a scopo di riduzione della popolazione di cinghiali. I cacciatori interessati sarebbero, secondo alcune stime, oltre 600 e buona parte di essi sono già stati formati durante i corsi promossi dall'ATC5 a Val di Nizza. In caso di richiesta delle autorità competenti, sarebbero pronti a imbracciare il fucile per contribuire all'attività di abbattimento. Secondo recenti stime, inoltre Popavese, al momento sarebbero presenti circa un migliaio di cinghiali, mentre 1.500 sono quelli abbattuti nel corso del 2022 e nei primi mesi di quest'anno. Abbiamo raggiunto Andrea Milanesi, sindaco di Cecima, dai primi di giugno inserito in zona rossa e dove è stato ritrovato, sul confine con Ponte Nizza, il secondo cinghiale positivo alla PSA in Lombardia. L'epidemia non è pericolosa per l'uomo, ma è assolutamente pericolosa per i suini, quindi la non propagazione e le misure e gli accorgimenti sono da attuare esclusivamente proprio per evitare che ci siano di fondarsi verso questi animali della peste sui. A Bavia adesso in primo piano il tema della sicurezza, si punta sull'utilizzo di nuovi strumenti per la precisione di 10 nuove fototrappole che andranno a controllare le zone considerate più sensibili e a rischio. Sono 10 le nuove fototrappole a disposizione della Polizia Locale di Pavia per monitorare parchi e zone considerate a rischio dal punto di vista della sicurezza urbana. Le fototrappole, acquistate grazie a un finanziamento arrivato tramite un bando regionale del 2022, sono costate 66 mila euro, 53 mila a carico della regione e 13 mila investiti invece dal comune. Metà sono fisse e sono già state installate in via Moruzzi, via Le Campari, nel parco del Castello Visconteo e nel parco Rossignoli. Altre cinque saranno invece mobili e verranno usate dagli agenti della Polizia Locale a seconda delle esigenze. C'è questo sistema che attiva automaticamente la telecamera quando qualcuno passa nel raggio d'azione della telecamera, c'è un sensore che l'attiva. Dopodiché questa registra per un certo periodo, adesso che giuro non ricordo quale sia, ma ci consente poi di vedere tutte le eventuali, di avere la completa panoramica di tutto quello che succede mentre passano queste persone davanti. Non sono le semplici fototrappole che fanno una serie di fotogrammi uno dietro l'altro, perché abbiamo notato nel passato che le fototrappole a volte non ci consentono di vedere se avviene una violazione, un reato, comunque un'azione che non deve essere commessa, a volte succede che ci manca proprio il fatto di vedere l'azione. Queste ci consentono di vedere tutta l'azione. Con l'arrivo delle dieci nuove fototrappole sale a 154 il numero di telecamere di sorveglianza presenti a Pavia, il Comune ha deciso di installare gli apparecchi fissi. Nelle zone dove in passato sono arrivate più segnalazioni di vandalismi ed episodi ai limiti della legalità. Abbiamo appunto installato 5 telecamere fisse in 5 parchi cittadini, quelli che dimostravano, hanno dimostrato nel corso di questi anni maggiore criticità, e 5 fototrappole a mobili invece che utilizzeremo all'occorrenza nelle varie zone della nostra città, secondo le segnalazioni che riceviamo dagli utenti e dai cittadini. Se noi, ovviamente tutti i parchi, tutte le zone in cui vengono utilizzate le telecamere hanno questo cartello con l'avviso delle videosorveglianze, che si tratta di un'area videosorveglianza, quindi si tratta di un'attività preventiva ma anche poi di un'attività di ausilio alle forze di polizia nel caso in cui dovessero essere commessi dei reati o altre attività o altri comportamenti che è penalmente perseguibile o anche perseguibile dal punto di vista amministrativo. Le telecamere servono ad identificare gli autori del fatto, abbiamo avuto degli scontri positivi sull'utilizzo delle telecamere che sono di ausilio a tutte le forze di polizia che operano in città e abbiamo avuto, come ho già detto, la possibilità di individuare gli autori di comportamenti che rimanze a penale o anche con il lecito amministrativo. A Paruona adesso dove la terza caldaia del termovalorizzatore verrà accesa tra circa due settimane. Slitta la metà di luglio l'accensione della terza caldaia del termovalorizzatore di Parona. L'accensione era prevista alla metà di giugno ma sono ancora in corso delle verifiche. La cosiddetta terza linea del termovalorizzatore era stata autorizzata nel 2018 con l'obiettivo di realizzare un impianto più moderno ed efficiente e andare così a sostituire la prima caldaia, la più vecchia. La dismissione della linea 1 avverrà contemporaneamente con l'accensione della linea 3. L'investimento per la nuova caldaia sarà complessivamente da 180 milioni di euro per l'omellina energia. La procedura prevede che la prima caldaia venga scollegata dalla rete elettrica nel momento in cui si andrà a collegare un nuovo impianto. Inoltre, durante il periodo di rodaggio, la terza linea sarà collegata alla ciminiera dove c'è il dispositivo di controllo delle emissioni, mentre si prevedono tempi più lunghi per l'impianto di essiccazione fanghi, l'altro grande progetto all'inceneritore di Parona. Il progetto era stato avviato all'inizio del 2020, appena prima dello scoppio della pandemia e sta andando a rilento. Se ne riparerà nel 2024. Torniamo a Pavia con le notizie perché proseguono le riprese per la serie TV dedicata alla storia degli 883 e sul set è spuntato anche Max Pezzali. E alla fine è arrivato anche Max Pezzali. Sul set della serie TV hanno ucciso l'uomo ragno che racconta la nascita e la carriera degli 883. La foto è stata pubblicata sui social dalla moglie di Max, Deborah Pelamatti. Nel quartetto si vedono anche Sidney Sibilia, il regista della serie, e Ciro Caravano, la voce storica del gruppo musicale Neri per caso. Le riprese a Pavia sono partite lunedì. Da giorni, soprattutto in centro, si vedono girare i camion della troupe, ma anche macchine e motorini, rigorosamente, degli anni 90. Per venerdì e sabato il ponte coperto e le zone del Borgo, tra Piazza Leghinaia, Via Milazzo e Via 25 Aprile, dovrebbero venire chiusi al traffico per consentire due giornate di riprese. Se dovesse piovere, però, i set si sposterà in Corso Garibaldi e in Via Luigi Porta, con una serie di limitazioni alla circolazione e di vieti di sosta che scatteranno anche in Piazza del Municipio e Piazza San Primo. Tornando al mondo dei social, nell'escorsiore è comparsa anche una foto di Mauro Repetto, l'altro componente degli 883, assieme al DJ e giornalista Massimo Cotto. I due hanno scritto un libro che si intitola Non ho ucciso l'uomo ragno, un romanzo più che una biografia, come l'hanno definito i due autori, che uscirà a settembre e che potrebbe svelare i veri motivi per cui gli 883 si divisero nel lontano 1994. Agropello Cairoli, adesso dove la casa delle suore verrà riconvertita e trasformata in un ambulatorio sanitario. C'è un paese in Lomellina che, dopo aver risolto il problema della carenza di medici, punta ora a costruire un ambulatorio sanitario. È il caso di Gropello Cairoli, e la sede individuata è la casa delle suore, che fa parte del complesso di Villa Cairoli, a pochi metri dalla biblioteca. Si tratta di un progetto che rientrava nel programma elettorale dell'amministrazione comunale di centrodestra, guidata da Elisa Olga Bergamaschi. Il primo lotto dei lavori partirà in estate. Siamo col sindaco che ci spiega adesso in che cosa consiste. Ad agosto, metà agosto, partiranno i lavori per quella che è la riqualificazione dell'ex casa delle suore, con il rifacimento del tetto, il primo piano arrustico e invece il piano terra, dove verranno realizzati gli ambulatori medici. Il recupero della casa delle suore era stato portato avanti inizialmente dall'amministrazione di centrosinistra, guidata da Chiara Rocca, che nel 2021 aveva partecipato al bando regionale sulla rigenerazione urbana. L'idea era di rimettere in sicurezza l'edificio da anni di smesso e pericolante e destinarlo a salone polifunzionale per attività culturali. I piani sono però cambiati con l'avvicendamento di amministrazione nell'ottobre 2021. L'intenzione, sin dall'insediamento della nuova giunta Bergamaschi, era invece quella di ristrutturare l'edificio e farlo diventare un centro sanitario polivalente, dove ospitare tre medici di base presenti in città, dopo gli anni difficili della pandemia. Il finanziamento è pari a 350 mila euro. Abbiamo portato a Gruppello Cairoli tre medici di base, e oramai la situazione dell'emergenza sanitaria dei medici di base è ormai risolta e con il rifacimento e la realizzazione di questi tre ambulatori medici porremo sicuramente la parola fine a quest'annosa vicenda. La stradella adesso con le notizie per la stagione degli eventi estivi. Stradella si prepara ad un'estate dedicata al volo e ai suoi aviatori in occasione del centenario dell'aeronautica militare e degli 80 anni dalla scomparsa di Pietro Bianchi, aviatore stradellino abbattuto all'età di 28 anni il 2 agosto 1943 nel mar Mediterraneo lungo le coste della Sardegna a Capopula. La sua e altre storie di piloti sono al centro di una serie di eventi iniziati con gli incontri con gli studenti in primavera e che proseguiranno a partire dal 7 luglio con la presentazione del libro della nipote dell'aviatore bianchi Giovanna e l'inaugurazione della mostra stradella in volo passato presente futuro. Il clou della manifestazione il prossimo 15 luglio quando la città sarà sorvolata da decine di ultraleggeri e i paracadutisti atterreranno in piazza Vittorio Veneto. Gli eventi continueranno in autunno con altre mostre e l'inaugurazione in ottobre di un monumento in ricordo di Pietro Bianchi e di tutti i caduti dell'aria. Nella ricorrenza degli 80 anni della caduta di Pietro Bianchi nel Mediterraneo abbiamo deciso di creare eventi che hanno coinvolto tutta la città e per tutto l'anno 2023. Il clou sarà il 15 luglio con una manifestazione che accoglierà elicotteri, idrovolanti, ultraleggeri, il lancio di paracadutisti sulla nostra città con il tricolore e molto altro, quindi per famiglie e per appassionati. Ma tutto nasce da Pietro Bianchi aviatore e poi il far conoscere alcuni altri personaggi un po' meno noti ma che hanno fatto la storia dell'aviazione. Alcune iniziative sono già iniziate, abbiamo visto incontri con le scuole, il clou abbiamo detto il prossimo 15 luglio e altre iniziative che poi andranno avanti anche nell'autunno. Sì, le iniziative andranno avanti, ci sarà il 7 luglio la presentazione di Giovanna Bianchi, la nipote di Pietro Bianchi sulla storia familiare, anche questo molto interessante perché prende il contesto stradellino degli anni 50-60 con molti riferimenti a personaggi e attività di quegli anni 50-60 del secolo scorso mentre poi ci sarà ottobre la presentazione, il 29 settembre per l'esattezza la presentazione di un libro del professor Chierico sul volo, sui due campi volo e sugli aviatori di stradella si concluderà il 7 di ottobre con l'inaugurazione del monumento all'aviazione quindi ci saranno anche personalità dell'aeronautica che ci ha dato il patrocinio sia per il centenario che per tutti gli eventi che abbiamo fatto con le scuole, con l'Istituto Faravelli, con l'Istituto Santa Chiara per far conoscere ai nostri giovani questo mondo che è anche un mondo che oggi può dare lavoro. E a proposito di eventi, a Cassolnovo adesso per la 50esima edizione del Paglio Cassolnovo è tutta vestita festa per il Paglio di San Defendente quest'anno per la 50esima edizione si è deciso di fare le cose in grande si è iniziato addirittura una settimana prima con eventi anche lo scorso weekend in attesa del clou che si svolgerà tra venerdì e martedì noi siamo i volontari dell'Effimero dico questo perché ci sono tante associazioni di volontariato che fanno ottimamente, lavorano soprattutto nel sociale per i diversamente abili, per tutte le fragilità e noi abbiamo tanto rispetto per tutte queste attività e queste associazioni di volontariato io dico che siamo i volontari dell'Effimero perché nonostante si possa pensare che una manifestazione di questo tipo sia qualcosa così di godereccio, di mangereccio in realtà noi puntiamo molto sull'aggregazione e sul fatto di considerare anche lo stare insieme un momento di bellezza condivisa e anche di buon umore e di buon umore perché c'è bisogno di buon umore di bellezze in questo mondo venerdì 30 giugno è in programma un aperitivo con l'orchestra spettacolo Abba Dream sabato sera la sfilata e la disputa del paglio il nostro è un paglio un po' particolare perché è soprattutto competitivo e non ci sono sfilate storiche sono proprio i ragazzi che giocano e si divertono e qualche volta anche esagerano un pochettino però è davvero una festa di giovani e di colore una macchia di gioventù che davvero riempie il cuore Domenica per le vie cittadine ci sarà il mercatino mentre alla sera si terrà un concerto tributo a Eros Ramazzotti lunedì il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali rinomato in tutta la Lomellina mentre la sera di martedì 4 luglio l'appuntamento è con la venticinquesima edizione della corsa podistica non competitiva a passo libero non ci sono altri aggiornamenti vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione Grazie a tutti